Gli ultimi dati confermano che il rischio contagio è alto ma il trend è in calo in Abruzzo, che resta comunque in zona arancione. Il presidente della regione Marco Marsiglio non condivide la decisione del governo e auspica un ritorno in fascia gialla entro breve tempo. Questo trend si consoliderà e continuerà la discesa sia dei contagi che delle ospedalizzazioni e quindi torneremo in zona gialla. Nell'ultima settimana i nuovi casi registrati sono stati 18.661 con una variazione del meno 20,51% rispetto ai sette giorni precedenti, in aumento i ricoveri complessivi che sono cresciuti del 15% su base settimanale del 21 in due settimane, seppur a fronte di una riduzione delle sole terapie intensive che sono scese del 20% rispetto a sette giorni fa e dell'8% rispetto a due settimane fa. I decessi dell'ultima settimana sono stati 37 e quindi in calo rispetto ai 55 della settimana precedente. È iniziata la discesa e quindi diminuirà la pressione anche ospedaliera nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Per quanto riguarda le vaccinazioni anti-covid, il governatore Marsiglio invita a chi non si è ancora immunizzato a farlo. Siamo praticamente al 90% e oltre di popolazione vaccinata con punte che si avvicinano al 100% per le categorie più a rischio. Io ho sempre sostenuto e raccontato la necessità di questa vaccinazione e l'utilità del vaccino, anche solo descrivendo i dati dei decessi e dei ricoveri in terapia intensiva. Tra il 75 e l'80% delle persone che finiscono in terapia intensiva o che muoiono non sono vaccinate. Questo vuol dire che se quelle persone si fossero vaccinate, in tre casi su quattro almeno, non avrebbero avuto né un ricovero in terapia intensiva né un decesso. Quindi io consiglio alle persone di vaccinarsi e di accogliere con fiducia questa opportunità che viene loro offerta. Grazie. Grazie. Grazie.